Ti piacciono le bionde quindi? Sì, mi piacciono assolutamente le bionde, ma anche le more, un po' tutto, va bene così. Siamo le donne in generale. Senti Vic, perché quindi tu comunque di professione fai il parrucchiere, ma ogni tanto la sera vai a cantare, così? Sì, suono in giro per i locali, faccio musica mia, sono un cantautore, propongo idee, eccetera eccetera. Ma senti hai una voce molto bella, molto ci piace, calda, ce la fai un po' a cappella, velocemente il tuo pezzo, vai? Certo. Muoviti, muoviti, come non mi schierai la testa, confondimi, guardami, cercami, donna dall'anima pionda. Bravo Nick del Loreline su R101, ci risentiamo presto, un abbraccio, buona giornata, ciao Nick. Ciao, bravo. Sei ragione.